Per la quinta edizione di Sport Tour, il progetto turistico dedicato allo sport, il premio Sport Tour 2011, uomini di impresa nel mondo, viene assegnato al presidente e nonché fondatore di Tecnogim S.P.A. Nero Alessandri. Siamo alle spiagge Fantini, terra di Romagna, una terra che si dedica all'Wellness. Sì, assolutamente, questo è un esempio incredibile, questo Fantini Club è un'eccellenza della Wellness Valley, quindi del progetto Romagna Benessere è un'eccellenza perché è lo sport tematico abbinato al turismo e quindi fare del turismo il benessere e lo sport come vacanza attiva è sicuramente un valore aggiunto per tutto il comune di Cervi e per tutta la costa adriatica e anche per l'entroterra. Quindi è un piacere essere qua perché mi riconosco come promotore della Wellness Valley diciamo in un premio proprio rappresentato da un'eccellenza. Ma io credo che quando c'è la salute c'è tutto e quindi sul lavoro con la famiglia nella vita stare bene, essere in forma, avere energia e quindi avere la carica per affrontare tutti i giorni il lavoro e la competizione che è durissima in giro per il mondo sia fondamentale. Quindi il benessere è un valore che aggiunge prestazione al corpo, alla mente e allo spirito e quindi sono altrettanto convinto che non ci può essere un'economia sostenibile senza la salute della gente. Numerosissimi gli ospiti presenti a questa serata che si conferma una serata importantissima del Sport Tour 2011. Sì, devo dire che anche io quando è partito questo premio qualche anno fa non credevamo che avesse così successo. Anche delle persone che sono venute a ritirarlo l'anno scorso, il presidente di Ducati del Torchio e quest'anno che è il grande presidente Nero Alessandri di Tecnogym. Lo so, sono veramente contento e poi anche con voi qui mi fa molto piacere. Grazie.